3, 2, 1, vai Silvio, 50, sinistra 3, subito a destra 5, subito a destra 5, 5 questa, piena piena vai 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 300 in sinistra 3, gira attenzione eh, sinistra 3 gira, sinistra 3 gira, per subito tornante destro, subito tornante destro, bravo 30 in destra, 3 più, 50, destra 4 lunga apre, 4 lunga apre questa eh, 4 lunga apre, per accenno sinistro, accenno sinistro eh, vai 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 fidati 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 fidati, attenzione al cartello tornante sinistro, bravo, in, attenzione destra 4 lunga, distra 4 lunga, raccordala, in, sinistra 4 lunga eh, sono quelle da raccordare, 4 lunga, destra, in, sinistra 4 lunga, per attenzione destra 3 eh, destra 3, in, sinistra 2, chiude apre, in, sinistra 2, chiude apre, per tornante destro, occhio, tornante destro, occhio, vai accenno sinistro, vai accenno sinistro, 40, e al cartello, attenzione, tornante sinistro qua giù eh, vai, 50, destra 3 chiude, diventa tornante destro al rosso, destra 3 chiude, stai largo eh, poi chiudi la qua rosso, che diventa tornante, bravo, e sinistra 3 apre, sinistra 3 apre, vai pieno, 40, e sinistra 3 apre alla pianta, 3 apre alla pianta, in, destra 3 lunga apre, 50, e ritarda la pianta, sinistra 3 più apre lunga, occhio che qua c'è la macchina eh, sinistra 3 più apre lunga, occhio che qua c'è la macchina, ok, destra 3 lunga, chiude dopo, chiude dopo, 3 lunga chiude dopo, chiude qua giù, e sinistra 3, e destra 4 diventa destra 2, destra 4 diventa destra 2, e allo specchio sinistra 2, questa diventa 2, e allo specchio sinistra 2, bravissimo Silvio, accenno sinistro in destra 4 apre destra 4 apre, 4 apre 100 vai 100 e al cartello blu stacca sinistra 3 per destra, 3 tieni al cartello blu stacca sinistra 3 per destra, 3 tieni per attenzione inversione sinistra attenzione inversione sinistra in accenno destro e destra 3 questa è una 3 Silvio e sinistra 3 più sinistra 3 più questa sinistra 4 questa è una 4, fila Ticano 4 al cartello sinistra 4 4 al cartello, 70 stacca destra 3 meno destra 3 meno in sinistra 4 scivola tutta, c'è l'olio oncareggiata occhio, 70 accenno sinistro al cartello 50 e al palo stacca destra 3 al palo stacca destra 3 qua stacca destra 3 e destra 3 ancora destra 3 ancora in sinistra 4 e destra 4 apre destra 4 apre vai 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 accenno destro frena in sinistra 3 accenno destro frena in sinistra 3 100 e stacca sinistra 3 chiude 2 per accenno destro lungo tieni sinistra 3 chiude 2 per accenno destro lungo tieni occhio al dosso e sinistra scusa sinistra 4 lungo al rail tornante destro pardon rispetto alla fanaliera vai e sinistra 4 lungo al rail sinistra 4 per attenzione destra 3 apre accenno sinistro 40 destra 3 apre destra 3 apre destra 3 apre questa in accenno sinistro e stacca sinistra 3 lunga stacca la sinistra 3 lunga vai così che vai benissimo Silvio e destra 3 e subito destra 3 subito destra 3 e sinistra 3 per destra 3 questa è una destra 3 in attenzione al cartello sinistra 3 apre occhio qua sinistra 3 apre bravo vai gas 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 70 andiamo sullo stop 70 vai 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 bravo bolla grazie a tutti